Amici miei belli nefasti, come promesso vi porto le partite migliori del secondo giorno di CRL World Finals. Ricordo che il monte premi totale ammonta a 500.000 dollari, il primo si porta a casa 200.000. So che non volete aspettare, andiamo subito alle partite. Mohamed Light contro Lucas. Mohamed Light l'abbiamo ben o male sentito nominare tutti, almeno una volta, è colui che ha ritenuto il giocatore più forte al mondo di Clash Royale. Nel video di ieri non ho messo sue partite perché sono state decise interamente dal matchup. Secondo me, nell'ultima partita la community è un po' splittata, poco a dire. Mentre Lucas, ok, è un giocatore forte, l'ho inserito nel video di ieri. Vediamo cosa succede qua. Mastino Lavico dal fondo, ma vuoi vedere che questo mirror di Mastino Lavico... Eh sì, ragazzi, la versione moderna, che non include al suo interno la mongolfiera, non è un Lava Loon. Vediamo, ragazzi, qua ovviamente il Mastino deve essere difeso, Flying Machines, ok? Credo che debba fulminare. Sì, la fulmine è presente in questo mazzo, soprattutto in questo meta così dominato dai Goblin Stain. Qua Arobs non possono mancare, workano molto bene in questo mazzo, doveva avere frecce anche per banalmente delle pirotecniche che potrebbero girare o delle principesse. Attenzione, tantissimi danni di Flying Machines sulla torre, 800 danni per Lucas, tanta roba. È veramente inspiegabile come mai Mohamed Light si sia preso questi danni. Campera con una cage evoluta difensiva, Mastino Lavico da parte di Lucas, ci prova. Qua sicuramente... Uuuuh, attenzione! Drago Inferno, ragazzi, terribile da vedere per Lucas. Se prima pensavamo fosse una bella partita, un bel mirror, una volta che vediamo il Drago Inferno cambiamo subito idea. Questa è una partita veramente molto facile per Mohamed Light. Lucas può giocare come vuole, ma il Drago Inferno non lo potrà rimuovere. E ora voi direte, ma la fulmine ne fa, non hai visto, c'è la fulmine. Ragazzi, il Drago Inferno non muore da fulmine. E se ci avete fatto caso, in questo push, il Mastino era davanti. Quindi che succede? Che Lucas potrebbe anche giocare altre truppe, no? Ma targetteranno il Mastino, il Drago sarà tankato. Le truppe non potranno gestire il Drago neanche dopo una fulmine. Inoltre, delle volte, la fulmine credo che dovrà essere... Ecco, in questo caso, se Mohamed Light farà Mastino Lavico a destra... E qua Lucas è costretto a fare fulmine, ragazzi. Quindi, tutte le idee di... Eh, vedete, ragazzi? Questo Drago è veramente, veramente un muro impenetrabile. Draghi d'osso, ovviamente Lucas ci deve provare. In alcuni spot anche Mohamed Light potrebbe fulminare. Qua non ce n'è bisogno. Frecce sono più che sufficienti. Ragazzi, secondo me la partita è finita. Secondo me questa partita è finita prima addirittura che iniziasse. Fulmine, ok, buona. Ok, difende anche Draghi d'ossa. Forse non aveva ciclato subito Mastino. Wow, attenzione, il bombarolo Evo, ragazzi. Hit del bombarolo Evo. Drago Inferno. Uh, bad timing di Mastino, forse qua. Bad timing. Deve difendere anche le guardie. Qua, ragazzi, veramente c'è... Lucas è un fenomeno e non sto dicendo che è scarso. Ma qua non ha le carte. Cioè, ragazzi, non è che può inventarsi qualcosa. Se avesse, non lo so, un razzo paradossalmente, no? No, vabbè, non credo che... No, vabbè, oddio. Oddio, magari qualcosa potrebbe pure fare di più. Ma così, raga... C'è veramente poco da dire. Veramente poco a fare. Eh, ragazzi. Drago. Qua non ha Elisir, ovviamente, per fulminare. Se non gioca i Draghi d'ossa, ovviamente, il Drago non muore di fulmine. Poco da dire. Veramente poco a fare. Flying Mashings. Mastino lavico di Mohamed a destra. Il mastino deve essere gestito. I danni, nonostante tutto, sono quasi pari, eh, ragazzi. Se ci fate caso, i danni gli HP alla torre, sì, sono pari. Wow. Fulmine necessaria da parte di Lucas per rimuovere parte dell'attacco di Mohamed. Frecce, frecce di valore anche di Mohamed. Drago Inferno, ovviamente, deve essere gestito. Lo difende con un mastino lavico, addirittura. Non aveva nulla, serio. Effettivamente un po' di ripartenza la dà. Eh, oddio, ragazzi. Forse si è... Eh, no, no, non si è sbloccato assolutamente niente, ragazzi. A parte che c'è un andro Drago. Oh, adesso l'ha rimosso, ma... Eh, i danni se li prende a destra qua, però, eh, Lucas. Cioè, ci deve provare perché sono rimasti 30 secondi. Al di fuori del bombarolo Evo. Torre con 900 HP, ragazzi. Ci ha provato, ma non funziona. Frecce devono essere tirate probabilmente sui lavapabs. Ha fatto bene a provarci perché la partita è finita. Questo push, questo cambio lane, esprime solamente la disperazione totale di Lucas in un matchup in cui poteva fare veramente molto poco. Good game. Bella partita, ragazzi. Purtroppo questo, delle volte, è il brutto di Clash Royale, il matchup. Una sola carta che determina il matchup, determina anche il vincitore della singola partita. Andiamo al game 2. Passiamo al game numero 2. Io ricordo che da regolamento non possono riutilizzare le carte utilizzate nella prima partita. Avete capito bene. Quindi non vedremo di nuovo Mastino Lavico, tanto per capirci, pago da dire. Allora, prego ragazzi, andate... Lucas, che BM, che cazzo! Ok, scheletrini che tra l'altro si evolveranno da parte di Mohamed. Spirito del ghiaccio evoluto, minatore. Questo sembra un classico miner control. Oh, attivazione della torre centrale sul minatore di Mohamed da parte di Lucas. Quello di Lucas sembra il mazzo di Remieli. Il mazzo con... Monaco! Attenzione, raga, perché se Lucas dovesse avere davvero il mazzo di Remieli, quindi composto da Torre Bombi e Arciere Magico, questo si tratta veramente di un monaco molto forte. Potrà abilitare su Lanceri, su Torre Bombi, sulla torre e anche sull'Arciere Magico. Iniziano subito a fare dei danni, questi sono danni molto importanti. Fenice. Allora, questa Fenice non potrà essere rimossa in futuro dall'Arciere Magico, secondo me. Il discorso è veramente complesso. Entrambi hanno il minatore, quindi entrambi giocheranno tanti minatori. Ma il problema è che Mohamed... Oh, attenzione, ragazzi, l'Arciere Magico! Tantissimi danni, ragazzi, in un matchup come questo! Questi sono danni veramente atomici, eh, ragazzi? Non possono essere trascurati... Veramente non avrei mai pensato di vedere una roba del genere. Stavo dicendo, ragazzi, il monaco, se ci pensate, è un po' come un minatore che non può essere mai predictato. Fa l'abilità e buonanotte. Lucas dovrà giocare attorno all'abilità facendo delle volte addirittura la Tornado sul monaco per rispingerlo indietro, per non prendere danni. Mohamed non è detto che poi farà l'abilità, però. Attenzione. Vediamo qua un attimo, minatore da parte di Mohamed. Oh, guardate che Tornado, ragazzi! Il Cavaliere, grazie alla Tornado, riesce a ittare la torre fantastica a questa giocata di Lucas! Tornado veramente spaziale, non so se avete visto. D'altro canto, una bellissima Fenice, che dà molti problemi. Ragazzi, stavo dicendo che l'Arciere Magico non potrà essere giocato su Fenice, ma dovrà essere giocato in attacco delle volte. La Fenice potrebbe, proprio perché Mohamed Light altrimenti ha due win condition, monaco e minatore. Se Lucas non fa Arciere Magico in attacco, ha solo il minatore. E che vorrebbe dire veramente una grande difficoltà nel fare dei danni. Quindi, infatti, guardate, Arciere Magico Ponte vuole fare Tornado stupenda da parte di Lucas. Ha riuscito a fare altri danni e si porta in vantaggio. Certo è che qua Mohamed non starà fermo, ha voluto in qualche modo evitare l'abilità, ha fatto questo placement di Cavaliere per evitare che ittasse torre. Spirito del ghiaccio evoluto sul minatore, molto interessante, brutto Cavaliere per provare a salvare l'Arciere Magico. Anche dei Lanceri che non mi piacciono. Qua, attenzione, la Fenice è full vita, deve giocare Torre Bombi. Spirito del ghiaccio evo sui scheletrini, ma il minatore qua ha fatto tantissimi danni. Attenzione, ci potrebbe essere Reborn. Reborn è gestito correttamente da Tronco da parte di Lucas. Monk Fondo, Monaco tra l'altro è un campione, ricordiamo che è da regolamento, non ritorno nel mazzo. Il mazzo di Mohamed in questo momento è composto solo da sei carte, ragazzi. Secondo me questo Monaco però è veramente tanto fastidioso insieme alla Fenice. Io credo che sia veramente scomodo da giocare per Lucas. Guardate qua, sta giocando attorno a Abilities Now per non prendere danni da parte del Monaco. Giustissimo, ragazzi. Lucas non sta giocando male, qua ci sono due Fenici da gestire. A questo punto Arciere Magico effettivamente credo che debba essere tirato. Attenzione, qua ci sarà Reborn, secondo me però. Eh ragazzi, a questo punto Arciere Magico deve essere tirato in difesa, anche se è molto triste. Attenzione alla production degli scheletrini, no, gestiti un po' in calcio d'angolo, ma gestiti. Ragazzi, come vi dicevo, è molto fastidioso da giocare questo matchup al posto per Lucas. Mohamed Light credo che abbia comunque un matchup superiore. Non sto dicendo che Lucas non può vincerla, non è un 100-0 totale, ma è veramente molto fastidio. Oh, attenzione l'Arciere Magico di Lucas! 967 HP sulla torre di Mohamed. Ragazzi, questa è una partita molto bella, molto veloce. Mancano 40 secondi, quindi l'Elysira a questo punto scorre a fiocchi. Dobbiamo girare tantissime win condition, tantissimi minatori da parte di Lucas, tantissimi anche Monk, secondo me, da parte di Mohamed Light. Minatore, ok, deve gestire la Phoenix. L'abilità del Monaco questa volta è stata tirata non in maniera precisa da parte di Mohamed, dato che la torre non stava targettando il Monaco, ma il Minatore, se non ho visto male. Ok? Minatore, mancano 14 secondi, ragazzi. Tornado per fare danni, anche magari in predict per allontanare qualcosa. Spirito del ghiaccio Evo. Attenzione, può giocare un Arciere Magico, forse sulla torre Bombi? Ecco, l'Arciere Magico, non ci credo! No! Tirato male l'Arciere, ma forse non era sufficiente! Ragazzi! Che partita della Madonna che abbiamo visto! Mohamed Light non ce la fa più, poverino, si è piegato, non so se avete visto. Andiamo a rivedere questa parte finale di questa partita incredibile, la più bella del mondiale. Non so se l'Arciere Magico ha sufficiente gittata, capito? Una portata sufficiente, anche se fosse stato giocato bene, raga. Avrebbe potuto ittare torre? Secondo me sì, ma non ci metto la mano sul fuoco. Guardate adesso Mohamed, eh, raga. Guardate Mohamed che si... Proprio un attimo... Oddio! Stavo a coda! Sembra che è venuto da una maratona, ma ci credo. I nervi qua, raga, sono stati alle stelle. Si merita un po' di riposo. Grandissimo Mohamed. Veramente bella, bella partita. C'è poco da dire. Hanno stupito letteralmente tutto il mondo. Il secondo match che vi voglio far vedere è Pedro contro Ta. Abbiamo visto Pedro l'anno scorso giocare bene, tranne l'ultima partita, l'ultimo match contro Mughi. E ci aspettiamo tanto anche quest'anno. Andiamo a vedere. Bombarolo Evo da parte di Ta. Pedro, tra l'altro, è molto amato dalla community, quindi oggi dovevo far vedere una partita di Pedro. Ieri ha giocato veramente bene. Ieri ha fatto una bellissima partita. Però c'erano altre partite che io volevo inserire nel video. Attenzione ragazzi, il Mastino Lavico viene molto gettonato in questa competizione. Questa versione moderna, senza mongolfiera. Chissà cosa hanno pensato i rispettivi coach per proporre in maniera così tanto decisiva questa versione. Allora, il mazzo di Ta sembra proprio essere un pecca, no? Un pecca, sì, il mazzo, bellissimo pescatore tra l'altro, ha capito che Ta ha Mastino Lavico. Non vuole forse giocare cage in questo momento di difesa perché è evoluta, quindi poi il pecca potrebbe essere un problema. E quindi si prende tanti danni. Se dovesse davvero avere pecca evoluto il nostro Ta, sappiate che Mastino Lavico dovrebbe riuscire a vincere senza troppi problemi. È vero che non ha Mastino Lavico, che non ha mongolfiera, volevo dire. Quindi è un pochino più facile da difendere per Ta. È vero che ha anche Ram Rider, magari rispetto alla versione che avete visto da me, quindi magari delle volte può essere giocata anch'essa in difesa. Però vi assicuro che qua Mastino dovrebbe riuscire a sfondare senza troppi problemi. È vero che Ta ha un pecca evoluto che può dare fastidio, dato che Pedro non ha il Drago Inferno però. Quindi non è così scontato. È vero però che possiede la Goblin Cage evoluta. Di conseguenza sarà necessario un push massiccio da parte di Ta per riuscire a sfondare. O un push comunque che comprende la fulmine proprio per rimuovere Cage evo. Bellissimi questi pescatori, questo è il sogno di Ta. Non può essere realizzato così facilmente, infatti arrivano le guardie. Perché Ta deve giocare il pecca, si deve assumere dei rischi. Ok, qua la Torre la fa. Non può essere difesa. Ha giocato davvero... E perché ha giocato fulmine? Qua la Torre sarebbe stata comunque portata a casa. Non ho capito questa fulmine. La Torre era sufficiente. Il Brawler non avrebbe danneggiato così tanto. Veramente non trovo nessun motivo qua. La Torre, d'altro canto, viene ripresa subito da parte di Pedro. Questo push... Eh ragazzi, due Mastinis, due Mastinis. Qua è difficilissimo fare qualcosa, nel senso... Immaginate i Mastinis, se ci fate caso, hanno una vita simile. Vuoi vedere che magari Ta vuole tirare delle frecce uniche qua? Perché deve rischiare, ovviamente sono tanti danni ovunque. Ah no, decide di andare di Abilities Now. Ok, deve abilitare, ok. Anziché le frecce va l'Abilities Now, ok, ci sta. Si è assunto un po' di rischi, Ta, ma... Ragazzi, come vi dicevo, guardate il matchup... Ok, il Ram Rider in difesa qua può fare qualcosa, produtturalmente, ma arriva anche Bomber Evo che potrebbe hittare Torre. Accidenti, ragazzi. Accidenti, accidenti. Il Bombarolo Evo si uccide il Bombarolo normale e viceversa arriva finalmente il Pekka. Questo è un matchup in cui il Pekka fa veramente poco al gioco corretto. Ci sono le guardie, ci sono i Draghi d'ossa che non possono essere rimossi. Se non con una giocata folle come Fulmine, una giocata out of value, c'è anche delle volte la Goblin Drill... Eh, la Goblin Cage Evo. Anche Flying Machines è un'opzione non facilmente rimovibile. Questo, ragazzi, è un matchup che secondo me Ta dovrebbe veramente portare a casa facilmente. che Pedro, scusate, dovrebbe portare a casa facilmente. Scusate, Pedro, il giocatore di Mastino, dovrebbe vincere. E qua 330 HP è solo questione di Fulmine. Qua 1600 HP che si porta a casa questa RAM sono un'ipotesi veramente poco probabile. che riesce a ciclare la Fulmine. Niente da dire, ragazzi. Pedro col Mastino aveva un matchup facile. Mi dispiace per Ta. Ieri non si è comportato male, ma questa volta veramente non aveva le carte da giocare. Passiamo al game numero 2. Per ora stiamo 1-0 per Pedro, che con il suo Mastino Lavico ha sconfitto il Pekka evoluto di Ta. Andiamo, andiamo a vedere, ragazzi, cosa si sono preparati per questa seconda partita. Ok, va bene. Per ora possono avere di tutto, ovviamente. Un Logbait! Ok, Logbait contro uno spirito del ghiaccio che si evolverà e dei Goblin Lanceri. Sì, buonanotte. Minatore contro Logbait, probabilmente. Cerbottaniere, questa sembra essere quella versione moderna che va di moda adesso, molto leggera, che abbiamo visto in salsa diversa nella partita di ieri con Relay. Ok, Cavaliere ci sta. Allora, sto pensando chi potrebbe avere un matchup migliore. Il matchup migliore. Dobbiamo ancora vedere le carte dei giocatori. Non lo so qua, Arciere Magico, ok? Quindi, mazzo di Remieli, tanto per capirci. Con Torre Bombi e Tornado, se non ricordo male. Non si è ancora attivato la Torre Centrale, forse non aveva la Tornado tra le carte iniziali? O forse è qualcosa di diverso, ma mi sembra veramente poco probabile. Ok, Valkyria da parte di Taa sul Minatore, Arciere Magico che fa bellissimi danni con la sua geometria, fantastico. Ramazzo di Remieli, ok? Quindi immagino che con Tornado e Tronco possa avere una situazione abbastanza comoda, Pedro, però è anche vero effettivamente che il Barile verrà sempre gestito da Tronco, se ci pensate. In questo caso, Spirito del Ghiaccio Evoluto, l'Arciere Magico da problemi, io direi che qua Pedro ha un vantaggio di matchup, devo dire la verità. Il Cannone ci sta, ragazzi, che venga giocato su Arciere Magico, perché se ci pensate, su chi giochiamo Cannone? Su Cavaliere? Delle volte addirittura Evoluto. Non lo so, mi piace molto in realtà. C'è qualche spot scomodo di Cannone su Arciere Magico, secondo me qua non è così grave, anzi, ti permette addirittura magari di migliorare il cycle del tuo deck. Snowball non necessaria per la presenza di Principessa, Arciere Magico dal fondo, qua deve arrivare... No, non credo che arrivi un Barile, non lo so, sarebbe particolare. Arriva un Cerbottaniere in tuo Barile. Attenzione, Tornado un po' forse discutibile, è vero che ha danneggiato il Cerbi, però la Principessa è ancora in vita, anzi, le Principessa adesso sono addirittura due per Tornado. Torre Bombi gestisce una Principessa, bellissimo Cerbi che a distanza gestisce Torre Bombi, Tronco però che fa pulizia sul Barile. Entrambi hanno un mazzo leggero, difficilissimo per Tà avere uno spot in cui Pedro non ha il Tronco per il Barile, secondo me. Opta infatti per... Oh, attenzione, Arciere Magico che con la sua geometria targetta la Torre sulla Principessa. Arciere Magico che, a quanto pare, riesce a danneggiare parzialmente il Cannone. Goblin che devono essere difesi. Ci sta, ci sta questa Torre Bombi, gestisce il push, la ripartenza di Goblin da due, e fa anche un altro ruolo. Distrae tutte le future Principesse, infatti Taffa, Principessa dal fondo, vuole giocare Principessa, è una carta fastidiosa, ma non può essere giocata a ponte perché targetterebbe Torre Bombi. È un'altra soluzione da parte di Tà, renderebbe Vano una Principessa. Arriva comunque la Tronco, incredibile, non si tiene Tronco per Barile Goblin, questa non l'ho capita, bellissima Tornado, piena di valore da parte di Pedro sul proprio Arciere Magico. Qua credo che abbia addirittura un altro Arciere Magico che questa volta potrebbe dare una bellissima partita di Pedro qua, ragazzi. Bella, bella partita, complimenti Pedro, mannaggia te. Si sta scaldando il ragazzo, eh. Oddio, qua si è preso un po' di danni però. Non sta giocando male Pedro. Io, devo dire la verità, non sono un esperto di questi due mazzi, quindi potrei sbagliarmi. Secondo me, Pedro potrebbe avere un po' di vantaggio di matchup qua. Non ci metto mai la mano sul fuoco, ragazzi, appunto perché non sono esperto di questi mazzi, li ho giocati pochissimo. Però quando penso a un Arciere Magico che non può essere gestito da una spell, quando penso a due deck leggeri, quando penso che comunque Pedro ha una tronco che riuscirà a ciclare spesso, ma anche una Tornado che delle volte può essere utilizzata come adesso, esattamente. Anche una Torre Bombi fastidiosa mi aspetto comunque un mazzo che può dare dei problemi. È comunque tesa, si può vincere per carità. Qua ha provato a fare forse un po' troppo il fenomeno Pedro con questo nuovo Arciere. Invece c'è riuscito tantissimi danni di Arciere Magico, accidenti, ragazzi. Tantissimi damages. Che partite, ragazzi! Che partite! Ragazzi, questo è un match divertente, poco a dire. Tornado piena di valore e, ragazzi, Pedro si porta a casa la vittoria contro Ta. Grandissimo. Pedro. Grande, grande, grande. Amici miei belli nefasti, io spero che vi siate divertiti con questo video, con queste partite interessanti. Io ricordo che queste partite possono essere recuperate dato che sono presenti su YouTube. Lasciatemi 500 mi piace anche oggi se domani volete lo scontro finale che decreterà il campione del mondo. Grazie di cuore a tutti, ci vediamo questa sera in live sul sito di Ola. Grazie.